Ciao bimbi, benvenuti a un nuovo lavoretto. Oggi faremo un aeroplanino e ci serviranno colla a caldo, tempere, pennello, tre bastoncini del gelato o del ghiacciolo, due bottoni, una molletta di legno e un piattino. Incominciamo a dipingere i bastoncini e la molletta. Utilizziamo il piattino, scegliamo i colori a piacere, io in questo caso sceglierò l'azzurro e il verde e incomincieremo a dipingere. Perfetto, dopo aver colorato tutti i pezzi a piacimento prendiamo la molletta e la colla a caldo e ci mettiamo una punta di colla a caldo sopra. Dopodiché prendiamo un bastoncino e lo incolliamo in questa posizione. Lo teniamo fermo per qualche secondo in modo che si incolli per bene. Ed ecco, abbiamo la prima parte. Facciamo la stessa cosa con l'altra parte della molletta, quindi riprendiamo la colla a caldo e gli mettiamo un punto di colla. Prendiamo il bastoncino e lo mettiamo esattamente al centro. Teniamo premuto per qualche secondo e lo lasciamo andare. Giriamo adesso tutto e facciamo la stessa cosa da questo lato, quindi riprendiamo la colla a caldo, mettiamo il bastoncino e premiamo per qualche secondo. Cerchiamo di metterli abbastanza sulla stessa linea. Ed ecco qui. Questa è la prima parte di aeroplanino. Per decorarlo io ho deciso di prendere due bottoni e adesso incollerò ai lati, quindi mettiamo un punto di colla e scegliamo il bottone. Prendiamo dall'altra parte più o meno la stessa distanza, quindi un punto di colla e mettiamo il bottone. In questo modo l'aeroplanino è finito.